La benzina è così cara che darsi fuoco è diventato un bene di lusso. La benzina è così cara che bisogna trovarsi un altro lavoro per pagarsi la benzina per andare al lavoro. La benzina è così cara che da oggi a chi farà il pieno regaleranno una Fiat Panda.